Sono più di mille i positivi a Caltanissetta con un incremento di 160 nelle ultime 24 ore. Il virus corre, aumentati anche i ricoveri, 44 in malattie infettive, sempre due in terapia intensiva. Sono 432 i nuovi case in tutta la provincia, si conta anche un decesso, un paziente di Gela. Sono 167 i positivi nuovi nella città del Golfo, oltre 4.000 i positivi in tutta la provincia. Notevole incremento anche a San Cataldo, 411 in totale, numeri che si innalzano in tutti i paesi della provincia, dal più piccolo al più grande.